Il mercato immobiliare in Italia è contraddistinto da un aumento del numero delle compravendite che però purtroppo viene accompagnato anche da un costante calo dei prezzi. Le troppe tasse stanno soffocando il sistema e allontanano un po' gli investitori. Questa è la fotografia scattata dalla FIAIP, la Federazione Agenti Immobiliari, una tendenza nazionale che riguarda anche il Friuli Venezia Giulia. I numeri sono molto positivi, questo è il quinto anno consecutivo in cui vediamo finalmente un segno più dopo l'infarto del 2011. Però parlare di ripresa dobbiamo essere ancora molto cauti, io voglio chiamarlo questo un lento ma graduale recupero. I numeri dell'osservatorio immobiliare presentato a Trieste dicono che nel 2018 ci sono state in regione 13.660 compravendite residenziali, più 3.6% rispetto all'anno precedente, ma i prezzi sono calati dell'1.5%. A Trieste il boom turistico ha stimolato gli affitti brevi e gli investimenti sulla seconda casa. Fare la parte del Leone sono sicuramente le quattro città capoluogo di provincia e le località turistiche Grado e Lignano soffre la montagna, la nostra montagna, la Val Canale e la Canale del Ferro. Questi dunque i prezzi medi di compravendita al metro quadrato di appartamenti nuovi ristrutturati nei centri storici dei capoluoghi. A Udine, nel centro storico pedonale, il valore più alto. Seguono Pordenone, Trieste e Gorizia. Nelle località di mare si passa da 5.250 euro al metro quadrato a Lignano-Sabbiadoro, fronte mare, a 4.000 nel centro di Grado. In montagna, dai 3.100 euro di Sappada ai 1.350 di Fornia Voltri e Sella Nevea.